La zona franca urbana è presentata ufficialmente a Palazzo Longano. Il progetto, inizialmente lanciato dall'amministrazione Nania, è stato ripreso e sostenuto dall'attuale amministrazione. A presentarlo è stato l'assessore David Bongiovanni nel corso di un incontro-confronto con associazioni dei commercianti, imprenditori e sindacati, al quale hanno preso parte anche il sindaco Maria Teresa Collica ed il presidente del Consiglio, Angelo Paride Pino. Presenti anche Sergio Amato nella qualità di consulente e Santino Cortese, al quale spetterà il compito di gestire lo sportello informativo al swap, che sarà funzionante a partire dal 22 ottobre ed aperto ogni martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18. Proprio a Sergio Amato è toccato illustrare le prerogative necessarie e l'iter da seguire per poter aderire alle agevolazioni fiscali previste dalla ZFU. Secondo quanto emerso dall'incontro saranno individuate delle subare che usufruiranno di maggiori incentivi. Tra queste sarà inserita la zona artigianale al fine di riuscire nell'obiettivo di decentrare alcune attività, anche in considerazione del fatto che alcuni lotti non sono ancora stati assegnati. Dal canto suo, l'assessore David Bongiovanni, unitamente al sindaco Maria Teresa Collica, ha manifestato l'intenzione di rendere maggiormente efficace la comunicazione in materia, al fine di facilitare l'accesso al progetto e poter attuare un'efficiente opera di concertazione con commercianti ed imprenditori.